Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video, io sono Luke e oggi siamo tornati con un nuovo video di Tower of Fantasy. Attuali oggi andiamo a fare la tier list, ve la vado a presentare ma prima sigla. Ok benissimo ci siamo ragazzi, vengo affiancato da come vedete questa bellissima schermata che è l'index di Tower of Fantasy. Qua troviamo tutti i personaggi quindi adesso li andiamo tranquillamente a mettere. Fatemi un secondo sistemare un po' questa cosa qua della tier list e ci vediamo subito. Ok perfetto ho modificato la tier list come potete vedere ho messo ottimi buoni e decenti. Li andiamo tranquillamente a rancare per bene. Tenete conto che passando di qua come vedete a Mark tutti questi qua sono della Siena tranne Nemesis che ve lo dico già partiamo da lei. Aspettate che non la trovi eccola qua Nemesis va sugli ottimi perché è davvero un personaggio solid ed è un ottimo primo banner da avere. Passando poi da Cobalt B. Cobalt B è buona, è davvero buona Cobalt B e TPS che sicuramente non andate a schifare quando la trovate. Non ho avuto occasione di testarla purtroppo perché sì ho giocato alla versione cinese ma purtroppo non ho avuto l'occasione di testarla. Passando invece a Claudia pure lei va insieme a Nemesis negli ottimi perché è un gran bel personaggio ragazzi se la trovate leggetevela per bene ed ingioiatela un bel po'. Dopodiché passiamo a Coco Ritter. Ritter va nei decenti, non è uno dei personaggi che proprio è incredibile, comunque un healer che sicuramente può svolgere il suo lavoro e comunque se la trovate la potete mettere nel tema perché come vi ho detto nella guida a Reroll ragazzi tutti i personaggi hanno un uso e possono essere buoni se usati bene. Passiamo avanti, Uma io la metterei nei buoni, è un tank, è una che si va ad affiancare di solito a Meryl come tank, può essere una valida opzione, ritengo però Meryl un pochino sopra, però più o meno, visto che ci siamo dai, la mettiamo qua, la ritengo un pochino sopra, mettiamola in ordine, la ritengo un pochino sopra. Meryl è tanta roba, insieme a Uma li potete tranquillamente usare se volete essere proprio tankosi fino alla morte e Meryl l'ho provata e mi è piaciuta un sacco sinceramente con quello spadone che c'ha, ha una bella abilità, mi è piaciuta. Questa se la trovate ragazzi, tanta roba secondo me. Passando a Crow, ragazzi Crow non ho riuscito a provarlo, lo metterei, sì lo metterei nei buoni ma un po' più basso, magari facciamo una roba così. Più o meno siamo su quel livello lì ragazzi, Crow è forte, ma magari lo dovrei testare meglio per vedere se può essere molto buono o insomma da quel che ho provato non è male. Però ci sono ancora un po' interdetto diciamo. Passiamo a King e come dice il suo nome, re indiscusso fortissimo, veramente fortissimo ragazzi. King se lo ho rerollato lo prendete dall'SSR garantito, quello che potete selezionarlo ragazzi andate sul sicuro. Secondo me, pure lui l'ho provato, mi piace troppo, troppo. Andando avanti abbiamo Samir, aspettate che non la trovo qua, Samir va a pari passo con King, è un'unità estremamente forte. Pure Samir l'ho provata perché per l'appunto nell'account che sono andato c'era, invece King l'ho provato in un trial, non ho capito neanche io che cos'era, ma mi ha fatto provare tipo Meryl, King e Crow, e basta in teoria, non ho provato altri. Ragazzi tanta roba Samir, ragazzi tanta roba, fortissima, assolutamente fortissima. Io direi che se quelli, se voi trovate questi qua, in questa zona qua, dovete festeggiare di brutto. Passiamo avanti Shiro. Allora Shiro io ve la metto qua. La vorrei mettere più in alto perché penso sia il mio personaggio preferito, al momento. Claudia la voglio provare, assolutamente la voglio provare perché oltre ad essere forte è un gran pezzo di... Shiro però è il mio personaggio preferito come playstyle al momento, insieme a King e il playstyle di St.2 mi piacciono un sacco. Vedremo, vedremo che cosa si può fare. Invece passando avanti c'è Tsubasa, vediamo se la riesco a trovare qui. Pure Tsubasa, non lo so se metterla alta qua o metterla qua. Io vi direi che la metto qui, un po' più indietro. Però comunque Tsubasa è fortissima, fate una roba. È buona alta, ottimo bassa, ok? Più o meno una via di mezzo del genere, io la metto qua. Ma ragazzi, veramente forte pure Tsubasa, eh? Lenta con gli attacchi, ha un'abilità che è molto veloce, Tsubasa però fa dei danni davvero davvero pesanti, eh? È una sorta di... di Ganyu. Però non dovete tenere premuto, fa dei danni da sola, proprio tranquillamente. Dell'ultimo personaggio, invece, è Zero, che come... come la sua compagine healer, Cocoritter, pecca un pochino. Purtroppo gli healer peccano un pochino, tranne Nemesis. Nemesis è indiscussa. E pecca un pochino pure Zero. Sicuramente sono validi, come vi ho detto. Tutti i personaggi, ragazzi, possono essere validi e possono essere utilizzati. Quindi se ad esempio trovate all'inizio una combo di due personaggi SSR, ad esempio Zero e Meryl, vi faccio un esempio. Ragazzi, è tanta roba. Tanta roba. Come se trovate Uma o Cocoritter, o come se trovate Cobalt e Shiro, o come se trovate Claudia King e poi vi prendete Samir gratis dall'SSR Selector. Adesso sto andando impossibile. Sto andando nelle robe dell'impossibile. Comunque, se non l'avete ne ancora visto, il video dei reroll lo trovate sul canale. È uscito poco tempo fa, quindi andatelo a guardare. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. E noi ci vediamo al prossimo video, sempre su Tower of Fantasy. E noi ci vediamo al prossimo video.